Il terzo anno consecutivo che abbiamo rinnovato questo binomio con il Pescara Calcio, abbiamo iniziato con il Pescara in Serie B e siamo andati in Serie A, quest'anno siamo ritornati in Serie B con la speranza di ritornare di nuovo in Serie A o perlomeno di fare una stagione a livello di una società prestigiosa come questa del Pescara Calcio. Cerchiamo di accompagnare i calciatori nel migliore dei modi con un trolley di una qualità molto buona che più o meno è lo standard un po' anche degli altri anni, è un trolley all'altezza del Pescara. Sì, la linea di quest'anno rispetto a quella dell'anno scorso che era un trolley rigido, quest'anno abbiamo una valigia morbida, quindi più leggera, stiamo all'incirca di un paio di chili, ma le caratteristiche di questo trolley, di questa linea, sono innanzitutto un tessuto più resistente, antistrappo, impermeabile, una chiusura lampo anti-intrusione, 41 volte superiore alla norma, il sistema TSA ormai in dotazione a quasi tutte le valigie, ma la vera caratteristica unica di questa linea è che il bagaglio medio ha la possibilità di asportare le ruote in modo che la valigia diventa un bagaglio a mano per tutto il suo volume, in pratica ha la stessa dimensione di un bagaglio a mano, ma sfruttando anche i 5 cm delle ruote, quindi è una possibilità di riempirla, avere più volume rispetto alle valigie di altre linee. Grazie per la visione!